E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Steph e questo video che è Marovlo E come avrete intuito, siamo tornati su Super Hero Tycoon Hanno aggiunto dei personaggi di Teen Titans Esatto Quindi ci è sembrato il momento adatto per tornare a giocare questo fantastico Tycoon Esattamente Se volete vedere anche il precedente video che abbiamo fatto, ve lo lasciamo in descrizione Però ragazzi, c'è un problema Allora, siamo entrati in questa mappa, c'è questa Cutie Pie Fluttershy Perché è un nome stranissimo Uno Che scrive delle cose strane Tipo, I am the boss of this game Cioè, praticamente, lei è arrivata È il mio Tycoon, aiuto Ci ha dato le sue armi Ok, ci ha proprio fatto entrare a prendere le sue armi Dopo che ci ha minacciato, ha proprio detto State attenti perché la mia pazienza dura poco E se mi rompete le scatole vi ammazzo Quindi, siccome lei pensa di essere la più forte di tutti Noi adesso ci armiamo un pochettino E poi le facciamo capire chi è il vero capo Assolutamente sì Cioè, non ha ancora capito Queste cose non si fanno con noi Chi sono signor Maialino e Capitan Jeff Ancora non l'ha capito In ogni caso, ovviamente abbiamo iniziato un po' la produzione Perché comunque questo Tycoon lo conosciamo già Lo facciamo un pochettino Un pochettino invece lo facciamo direttamente andare da solo Capito? Così non ci annoiamo troppo Sì, ma anche perché la parte migliore sono le armi Quindi non vedo l'ora di essere armata Io ho Superman e tu Beast Boy Che ancora non abbiamo detto Non abbiamo detto cosa ci siamo presi E io so già che c'è il mantello di Superman Quindi puoi volare in giro per la mappa E non vedo l'ora di averlo Non vedo l'ora Deve essere bellissimo Io sono entrato e ho visto Beast Boy libera Sono corso dritto a prenderlo velocissimo Non ci volevo Starfire, ok Ok Perché praticamente volevamo farlo a tema Teen Titans Sarebbe stato molto carino Ma l'avevano già preso Abbiamo cercato di farla fuori in continuazione Per farla allivare Ma non ci siamo riusciti Questo perché non c'erano i consolini ad aiutarci Vedi il potere dei consolini Se ci fossero stati almeno altri due consolini Esatto Sarebbe uscita immediatamente Ciao bella statua Che sei combinato? E niente, niente Stavo provando una mia arma bellissima Stai bene? Sì, ti vedo Allora mi sono volati i capelli dello spavento Allora questa è guerra È stata lei Questa è guerra No, ascoltami No, no, no Per ora devi far finta di nulla Non siamo ancora armati Devi far sembrare che sia stato Scrivi ha 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 in chat Fai finta che sia stato divertente Allora Ha 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 Ma mi ammazza di nuovo Allora questa è guerra dichiarata No, non mi puoi più fermare Ma che cosa sono questi così? Cioè Aspetta Aspetta Ah, hai messo il soffitto, ok No, non ho messo il soffitto Ah no, sei diventata notte Ho visto una cosa Allora mi è sembrato il soffitto Aspetta Prova a saltare fuori Ok Eh, vediamo È stranissimo Ma come funziona? Allora, fa una parabola, ok Aspetta Prova a dezoomare E a selezionare il punto Dove vorresti saltare Sì Ah, ok Eccolo Sì, ce l'ho fatto È bellissimo Ma Cioè se io indico il tetto di quel posto lì in fondo Ah no, ok Mi dice troppo lontano Quindi ti dice Anche fino a dove puoi arrivare Tipo dentro il mio tycoon Dove ci sono i dropper Uh 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 Ma salta tantissimo Bellissimi E poi Ho questi Questi sono per picc... Ma ti ho steso K.O. Mi stai dicendo che quindi ormai è guerra pura? Assolutamente sì Ok Allora Allora Mi prendo anche le tue armi Aspetta Come si vola? Devi... È difficilissimo Ecco, ecco Dove indichi? Mamma mia Devi premere doppio spazio E poi dove indichi Quindi è stranissimo Ok Bellissimo volare Io vado ad ammazzare quella che ti ha... Vieni da Starfire Ok Che ti aveva rubato il tycoon E ci vendichiamo di brutto Allora Non c'entra niente Allora Lei non sa che noi possiamo entrare così No è uscita Disgraziata Signorina Lei è il boss Guarda come ti schiva Poi Za 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 Ma sei finita a combattere Non ti... Ah sei lì Sì ma devi prendere Superman Uccidila Non è troppo veloce A chi dobbiamo far fuori? A lei Ok l'ho colpita Bravissima Hai visto i miei occhi laser? Li hai visti? Bellissimi Bellissimi Sì Ok vieni nella mia base Vieni nella mia base Non hanno ancora capito che i boss di questo server siamo noi due E glielo dimostreremo più volte Sì Assolutamente Certo che comunque adesso il coso per saltare che ho io è un po' inutile Dato che possiamo direttamente volare Esatto Guardala guardala Ucciderò tutti adesso I'm killing everyone now Allora nuova missione Sì Farla uscire dal server Ce la possiamo fare Ok Accetto la sfida e ce la possiamo fare Accetto anche io Allora aspetta che metto la produzione a fare soldi perché qua abbiamo bisogno delle nuove armi Assolutamente Cosa vuole fare? Si sta armando Noi aspettiamo che arrivi nella nostra zona Facciamo finta Tanto siamo in due esatto Dobbiamo far finta di avere paura Così lei si avvicina a quel punto Za za da una parte e dall'altra Assolutamente sì Vediamo se riesco a saltare dal mio tetto Vai Fino al tuo Secondo me ce la fai Vediamo se riesco ad arrivarci Aspetta Venga 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 Allora mi posiziono bene Uh Ma salta tantissimo Sono fantastici Sì stivali Allora sta arrivando qualcuno Li vedi al piano di sotto È lì È lì Io le salto addosso e poi la pugnalo Ah è scappata subito Eh però hai paura E allora non sei proprio il boss di questo server Io sono dentro la sua parte Vieni 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 Ah io la vedo dal mio guarda Ma la stai uccidendo? Non so No forse non la prendo ancora Però guarda Sì così la uccido Vai vai tu sei dentro Vai Finiscila finiscila Ok Nessuno ci può battere No assolutamente no Una da dentro la base Una da fuori Come ti salvi Impossibile Assolutamente Sono comodissimi i tuoi stivali Te lo devo dire Sono fantastici Mi muovo da una parte all'altra In modo super comodo E bellissimo Comunque Sì dimmi Aumento un pochettino anche la mia produzione Perché sono curiosa di vedere Quali saranno le nuove armi E più che altro dobbiamo difendere le nostre armi Perché se loro continuano a prenderle Esatto È più difficile per noi combattere Perché ci rubano i poteri E diventa davvero difficilissimo Assolutamente sì Guardate la chat Allora prima di tutto Ho detto che io non sono più nel suo team Gli ho chiesto perché E ho detto perché l'ho uccisa tre volte Gli ho promesso che non l'avrei più uccisa Sapete cosa mi ha detto Mi ha detto che se voglio rimanere in team con lei Devo ammazzare Ferrenichi Ha scritto il Superman team Che appunto sono io Oh mio dio È fantastica sta cosa Ok I will do Non so cosa le aspetta Lo so Non so cosa le aspetta Allora But help me Because she is strong Praticamente ha detto di aiutarmi perché lei è forte Quando arriviamo da Ferrenichi Prendo e ammazzo lei Ok E poi le dirai No ho sbagliato Mi è partito nel mouse Scusami Si è mosso da solo Io non ho fatto nulla Teni forza Mi servi perché altrimenti non riesco ad ammazzarla Ferrenichi Ok bravissima Col tuo bell'arco io mi nascondo qua sotto Ma ce la fa scendere delle scale? No non ce la fa Ma insomma non è molto difficile Eccola eccola Vai 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 Togliti Facevola fuori E facevola fuori anche l'altra È velocissima l'altra Tutti Tutti Come fai a fidarti delle persone? Non puoi Non puoi Ho ucciso anche quello che aveva preso i tuoi poteri Che infatti stava sparando con i laser di Superman Che sono solo miei quelli Sono solo miei Nessuno si deve permettere Vediamo quanti soldi ho per ampliare Vuoi venire? Sì Forse riesco a comprare le mie due nuove armi Arrivo Arrivo Vieni saltando però Non ce li ho Non ci preoccupare Allora ti aspetto direttamente di sopra Arrivo Allora Ho finito tutta la produzione Ok Ok Ho 63.000 E posso decidere se potenziarmi i muri O comprare le nuove armi Sei arrivata volando Allora secondo me le nuove armi Dai le nuove armi Sono curiosissima Vediamo cosa c'è Oh no Oh no Non dirmi che è ciò che penso Ti ricordi quest'arma? Sì che me la ricordo Forse i consolini non l'hanno mai vista Ma guardate Adesso ne uso solo uno su di te Guardate cosa fa Si attacca uno squalo E inizia a morsicare il nemico E piano piano gli fa danno Mi sta facendo venire un po' di mal di testa Tu che dici? Ma si stacca O mi ammatta del tutto? No si dovrebbe staccare Questa è un'arma crudelissima comunque E poi Si è molto cattiva Che cos'è questa? Prova a prenderla Perché io ho la barra piena Vediamo Però posso fare così no? Che faccio? La uso su di te? Vai Che succede? Uh aiuto Sono andata al pieno di sotto Hai visto? Ma non l'hai visto cos'è caduto? Un meteorite era? Un meteorite così grande Grande quasi quanto tutto il pavimento Era gigante Guarda le sto attaccando gli squali addosso Aspetta Guardati la scena Guardati la scena Vengo qua ad assistere Guardami L'America ha due squali? Aspetta la devo uccidere così Posso finirla? Ti prego No 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 Dammi l'onore Falla morire mangiata dagli squali Guarda Chi era il capo di questa mappa? Chi era il capo? Allora a me non piace A canirmi contro un player Ma ha iniziato lei Ha iniziato lei a fare la sbruffona Ammettilo che ti piace Sì mi piace Stavo dicendo Pugì È sinceramente la cosa più bella della mia onda Comunque No ascolta Bisogna spiegare una cosa No sai cosa bisogna spiegare? Sì Che uno qui non è che può entrare E mi può dire che è il capo del server Così E sperare pure di passarla liscia Non può succedere questo E tutti i consolini lo sanno Perché io ad esempio E con signor Maiorino Sto prendendo tutta la forza dei consolini Che anche se non sono nella mappa Ok Mi aiutano comunque a farla fuori E a conquistare il server Perché noi facciamo sempre quello Conquistiamo i server Ok Io volevo dire che comunque Why Steph? Si sente tradita Volevo dire comunque Che noi ammazziamo gli inglesi Perché vogliamo farli uscire Così entrano i consolini E giocano con noi Quindi Anche se vi sembriamo crudeli In realtà è per un bene superiore Giusto? Esatto Sicuramente Oh no Guarda Ma diventiamo un foglio Ma perché per un foglio? Speravo fosse in 3D Però fa ridere che sia un foglio Guarda Ha scritto Stai zitto Perché io c'ero da prima di te No allora Allora questi sono affronti terribili I still kill you Ragazzi si sta arrabbiando tantissimo Mettite gli stivali Mettite gli stivali E guarda come corri No vabbè Aspetta Se mi metto il mantello e volo No vabbè Vabbè Guarda Cioè Vabbè È terribile Ho finito tutto Ho chiuso anche di sopra E mi manca soltanto l'extra Bello Vediamo che cos'è Cos'è l'extra? Ok Super speed Bello Bello Speravo qualcosa di più bello Però va bene Allora Mi manca pochissimo Aspetta Rimani lì Sì sto ferma Dobbiamo festeggiare una cosa Pronta Cosa? 3, 2, 1 E finito Il take you Yeah Bravo 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 Guarda che arma rubato Qual è? Questa Oh ma è bellissima Sembra potente Ok Fireball Fireball Vai Sì ce li ho Ce li ho A pari Fireball Bello La voglio provare A me non la sta prendendo Ok no Ce l'ho ce l'ho ce l'ho Ok Oh Bellissima Fantastica A me non l'ha presa Scusi signorina Ah ecco ora ce l'ho È bellissima Arrivano lontanissimo poi Fantastica Bella quest'arma Mi piace un sacco Bella Ma passa anche attraverso i muri? Credo di sì Credo di sì Che vada proprio dritta E distrugga tutto quello che trova Bellissima Comunque siamo riusciti a far uscire a Starfire Sì Siamo bravissimi Manca soltanto il boss Esatto Quindi se sconfiggiamo il boss Si può dire Uscita Uscita Abbiamo conquistato serie È finita Ce l'abbiamo fatta Abbiamo vinto anche questa battaglia Io non ci posso credere È bellissimo Ogni volta davvero fantastico Abbiamo dimostrato che siamo i supereroi più forti Scusi Siamo i supereroi più forti Lei è un innocente ma devo provare questa spada Bella Ti prego devo provarla Te la devo far vedere Dai vieni provala su di me Ok aprimi Ti faccio entrare Mi sono curiosa di vederla Vieni È incredibile Guarda Fai Ti ho mancato Sì mi hai mancato Uh Bella È vero? Fantastica Sì mi piace È bella È una figata Pazzesca Siamo pronti alle tue ultime cose Sì Vai 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 Allora l'extra cosa sarà? Quindi Super speed pure a me Cioè Cioè boh Vabbè speravo in qualcosa Ma io ricordo che l'extra la prima volta Tipo quando io avevo Joker Era una moto Fighissima Probabilmente l'hanno cambiato Anche io No ma io ricordavo che poi cambiasse l'extra In base a ogni cosa Certo Al tycoon Quindi vabbè Anche io Vabbè Siamo pronti Abbiamo aspettato fino ad ora È il momento di provare il costume di Superman Vai 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 Oh mamma mia Questo sì che è bello Questo sì che è bello per davvero però È fatto benissimo Guardami Oh ma sei pericolosa Eh sì sono molto pericolosa Ma sei proprio pericolosa Questo è davvero bello Mi piace Lo apprezzo davvero tanto È fantastico Mi piace un sacco Comunque guardate la mappa Gli unici due tycoon molto alti Sono il mio E quello di Fereniki Perché tutti gli altri Perché siamo i boss del server Cosa sta facendo questo disgraziato Ancora non l'hai capito vero Tu ancora Rubare le armi Guarda rubando il costume No 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 Nessuno ti ha detto di prendere No non lo sto Perché non lo sto colpendo È diventato invincibile In ogni caso ragazzi Ci fermiamo così per questo video Speriamo che vi sia piaciuto Se vi piace E vi è piaciuto molto il tycoon Nel caso lasciateci tanti likes E vedremo di portare di nuovo Questo tycoon Non appena di nuovo Cambiano tutti i supereroi E quindi ne possiamo provare altri Ho notato che cambiano Abbastanza spesso Quindi sì Se ne potrebbero provare altri Magari ci organizziamo E facciamo anche una guerra Tra consolini Potrebbe essere davvero davvero etica Esattamente Spero che se vi è piaciuto Lasciateci un like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 ciao